Gioco e scommesse online. Sono tre gli esercizi scoperti dai finanziari di Catania. In particolare sono stati individuati nei comuni di Catania e Biancavilla due internet point gestiti da italiani che proponevano l'accesso ad un sistema illegale di scommesse online. I due distinti interventi hanno consentito il sequestro dei computer e delle apparecchiature utilizzate per l'accettazione delle scommesse da banco, nonché del materiale cartaceo che comprova l'effettuazione delle scommesse clandestine. I due titolari degli esercizi commerciali sono stati in attesa della sentenza definitiva denunciati alla Procura per esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommesse che prevede una pena detentiva fino a tre anni di reclusione. Un ulteriore controllo in altra attività ha invece permesso di accertare l'illecita installazione di apparecchi ludici in assenza della prescritta licenza, la cui sanzione amministrativa va da un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 15.000 euro a congegno installato.